Grazie, questa domanda sulle competenze effettivamente voleva essere sulle risorse che già sono all'interno dei musei, però sappiamo benissimo che spesso i musei hanno bisogno di altre risorse molto più specializzate. Qualcun altro vuole contribuire, magari raccontandoci un po' l'esperienza del proprio museo, la propria istituzione? Ok, andiamo avanti. Non fatevi spaventare dal microfono, questa è una parte che vuole essere quanto più interattiva possibile. Ok, qua magari vi lascio un minuto in più perché è una domanda aperta, quindi potete rispondere usando il campo di testo. Ecco, qua vorremmo invece chiedervi quali sono le criticità e le sfide che state affrontando. Ancora, rispetto alla costruzione di progetti per chi sta lavorando al bando, ma in generale per tutte le attività di trasformazione digitale. Abbiamo parlato adesso di risorse, che è sicuramente un tema, quindi carenza di risorse umane all'interno dei musei, ma ci sono anche altre criticità, altre barriere, sia interne ai vostri istituzioni che anche esterne, che vedete. Tranquilli, le risposte che inviate sono anonime poi sullo schermo. Ecco qua, accanto al personale, appare la questione degli spazi. Sì, capi arretrati per me era molto chiara. Ecco, vedo già una risposta interessante. Mancanza di un linguaggio comune. Non so se chi ha lasciato questa risposta, intanto che gli altri continuano a rispondere, o anche qualcun altro che la percepisce come qualcosa di vicino alla sua esperienza, se vuole contribuire. Ah sì, si può scorrere, scusate. Credo che voi potete vedere tutte le risposte dopo che avete lasciato la vostra, credo. Ecco un altro commento è sempre sui responsabili, quindi dirigenti o posizioni apicali. Infrastruttura tecnologica. Poi sul personale, ad esempio qua in una risposta c'è un approfondimento sul personale amministrativo, quindi magari un discorso anche legislativo. Scorro. Formazione adeguata. Grazie. Questo direi che siamo qua anche apposta per questo. Ecco, qualcuno che ha già lasciato la propria risposta vuole commentarla, elaborarla? Magari provo a farvi un'altra domanda collegata a questa. Le barriere che, le sfide che percepite sono più interne alle vostre organizzazioni o più esterne? o entrambe, ma magari se le percepite più internamente o più esternamente alla vostra organizzazione? Dicevo che per me non sono separabili interne e esterne, perché chiaramente se ci sono problemi di linea lenta non è dovuto a un problema interno, è dovuto a un problema esterno, cioè a mancanza di fondi anche o mancanza di personale non si può dire un problema interno, perché chiaramente con il fatto che ci si debba occupare sempre un po' di tutto, bisogna dare delle priorità, se arrivano dei visitatori, chiaramente io per esempio mi occupo principalmente di grafica o anche dovrei occuparmi della didattica, però è difficile seguire tutto ed avere il tempo per tutto, perché appunto spesso adesso sono in una fase di passaggio da un museo all'altro, per cui posso parlare più del museo precedente e spesso se ci troviamo in due o tre persone non avendo abbastanza monitor dovevamo essere presenti come si può dire, non piace molto il mio collega, però come custodi, oppure come nell'accoglienza diciamo dei visitatori, per cui eravamo costretti ad abbandonare i lavori di grafica e spesso sia nella grafica che altri colleghi con la fotografia dovevamo mettere i nostri strumenti a disposizione perché gli strumenti che sono messi a disposizione dall'istituzione non sono adeguati per i compiti che dobbiamo svolgere e questo è uno dei problemi. Un altro problema che sarebbe bello, dico come progetto, è condividere le biblioteche, l'inventario delle biblioteche, perché per esempio prima lavorando a Ferrara, occupandomi anche un po' ogni tanto dell'inventario della biblioteca è nato il problema di come catalogare certi libri che non erano prettamente pittura o prettamente scultura, parliamo anche di linguaggi contemporanei in cui si passa dalla pittura alla scultura, cioè le installazioni per esempio, e manca un linguaggio condiviso per catalogare. E sarebbe bello appunto unire anche i vari inventari dei musei in un inventario unico, anche per questioni di ricerca, di studi. Qualcun altro che vuole portare la propria esperienza? Magari anche rispondendo a questo intervento, insomma un po' alle sfide, alle criticità che sono emerse. Faccio un'ultima domanda, poi passerei alla prossima. E questo commento, mancanza dello linguaggio comune, quindi sulla transizione digitale, quanti di voi in sala, vedo un po' di facce che stanno annuendo, quanti si ritrovano in questa criticità? Secondo me bisogna anche pensare un attimo a quello che è l'età media di una struttura. Io a volte mi trovo a dire, cioè, delle cartelline divise dentro un server non sono un database. A volte ci troviamo a parlare di questo, ecco, ordinare il materiale dentro delle cartelline non può essere definito un database. Quindi quando il database ce l'abbiamo, ecco, questo forse vuol dire mancanza di un linguaggio comune. Grazie, ma cos'è un database? Io per esempio non uso i social, quindi io, perché sono già un dinosauro. Quindi bisogna creare un linguaggio comune anche tra le varie età e sensibilità che sono dentro un ente. Quindi, cioè, secondo me è scontato cos'è un database, secondo altri colleghi no, così come mi dici, fai un post e dico, eh? Cioè, è difficile, ecco. Si può parlare di digitalizzazione, di innovazione, però tra il personale di un ente o più enti ci deve essere un linguaggio comune, ma anche una formazione comune. Se no, fai fatica anche a fare rete. Giustissimo, grazie. Ok, se non ci sono altri commenti passerei alla prossima domanda. Ecco, qua invece vorremmo chiedervi quale tipo di partnership, alleanze, reti state costruendo, avete intenzione di costruire per la transizione digitale della vostra organizzazione. Quindi, prima è stato menzionato che, insomma, avete già iniziato a ricevere anche delle proposte, insomma, avete già iniziato a creare delle collaborazioni, ma con chi, con quale tipo di enti? Sia di fornitura che di partenariato, quindi, diciamo, in entrambi i livelli. Magari qua vi lasciamo un minuto in più per rispondere poi. Per parafrasare la domanda, chi vi serve per iniziare un certo tipo di percorso all'interno del vostro museo? Grazie. Grazie. Ecco qua, già stanno iniziando a emergere delle categorie diverse, quindi sia istituzioni, quindi NIC, comune, sia aziende, ne abbiamo parlato anche prima, ma anche istituti di ricerca, università, scuole, ICC. Le scuole in che senso? Per quale aspetto? Mia curiosità, vedendolo in un paio di risposte. Come beneficiari o come partner? Come partner, quello che raccontavamo prima delle nostre figure degli illustri lughesi, due scuole sicuramente, due istituti comprensivi saranno dei partner per noi. Nel progetto di didattica coinvolgiamo le scuole, poi saranno anche beneficiari ovviamente. Ok, qualcuno vuole iniziare un po' a commentare magari su questo? Ci sono un po' meno risposte, ma vedo che alcuni di voi ci stanno già lasciando. Possiamo passare? Ok, questa è un po' collegata a un tema che veniva sollevato prima, quindi prima vi abbiamo chiesto quali competenze mancassero all'interno del vostro personale, delle vostre risorse che già avete, e qua invece di nuove figure professionali, cioè chi vorreste integrare all'interno della vostra organizzazione? Di chi avete bisogno? Facciamo riferimento a tutta quella carenza di personale che era emersa nelle risposte di prima e cerchiamo di definire un po' meglio di che tipologia di personale. Questo è abbastanza... Ok, e proviamo anche a dare una descrizione qualitativa, di funzione forse, di questo tipo di risorse. Qua è ovviamente su il tema, il fil rouge di questa conversazione, quindi sulla transizione digitale. Quindi ovviamente rispetto alla transizione digitale, quali figure vorreste integrare all'interno del vostro staff? Ecco, vedo già delle risposte forse più ovvie, tecnici, della digitalizzazione, informatici, però altre forse meno, ovvero un project manager, che direi è una risposta molto interessante, e un amministrativo. Grazie. Grazie. Queste risposte sono in coerenza con le risposte alla prima domanda, i servizi di digitalizzazione più richiesti, tra virgolette, erano quelli che puntavano alla digitalizzazione, e mi sembra che questa risposta sia in coerenza. Comunque, professionalità tecniche, mi sembra. Arrivo. Che sulla transizione digitale si potrebbe scegliere, cioè mancano tutte le competenze, perché in generale siamo pochissimi, è un personale ridotto, penso che sia così per tutte le strutture, quindi magari ci potessero essere dei nuovi ingressi che si occupano di questo settore, però prima commentavamo che in realtà c'è una carenza ancora più al di sopra, che è quella degli amministrativi, che non c'entrano con la transizione digitale, però, per esempio, nella struttura in cui io lavoro, che sono i musei civici di Reggio Emilia, l'unico ostacolo che è stato valutato a partecipare al bando o meno era se gli amministrativi ce la potevano fare. Ed è stato chiesto a loro, partecipiamo o non partecipiamo? Non hanno ancora risposto, però risponderanno di sì, però ce lo stanno facendo sudare, nel senso che non c'entrano, però poi c'entrano, perché alla fine il lavoro lo mandano avanti queste figure, quindi... Gatekeeping serissimo questo degli amministrativi. Io lavoro per la direzione Musei Emilia Romagna, quindi non c'entro niente con questi bando, però il problema è che appunto la carenza di personale fa sì che in realtà magari il personale tecnico scientifico di fatto sia presente, ma questi progetti non possono essere fatti in ritaglia di tempo, ci vuole tutto il momento di formazione, il momento in cui si capisce a livello progettuale cosa si vuole fare, dove si vuole andare, e a quel punto una persona dedicata che mette insieme tutte le competenze e sappia che rivolgersi all'esterno. Ma se queste cose vengono fatte nei ritagli di tempo, perché prima c'è da pensare all'allarme che si è rotto, poi alla cartigenica che manca, poi dopo le visite guidate, nel senso che c'è talmente tanto di carenza a livello proprio basilare che diventa poi un problema riuscire a fare questi progetti che sono bellissimi, ma hanno bisogno dei tempi giustamente per avere un senso, perché se no poi si fa un progetto, nessuno ci si può dedicare, si è fatto un bel pacchettino e poi finisce lì. Il ruolo del project management è coordinatore, quindi chi riesce a tenere le fila, poi trova i fornitori, convince l'amministrativo, fa cadere le cose. Il senso del progetto è il gruppo di lavoro, nel senso che spesso chi se ne occupa è una persona sola, e invece sono tutti progetti che avrebbero bisogno di un gruppo di lavoro, e spesso anche quando le pochissime volte che si parte in gruppo, poi il gruppo si sfrangia proprio per i motivi di prima, e quindi resta sempre la solita persona che va avanti, e già questo è un problema enorme, perché in teoria bisognerebbe, poi soprattutto su strutture complesse, discipline che sono diverse, e quindi bisognerebbe avere più voci, e poi c'è il problema che dicevo prima, quindi insomma è complesso. Ok, qualche risposta anche sul lato comunicazione, vedo social media manager, esperto in comunicazione e storytelling, quindi un altro tema che è emerso. Ok, se non ci sono altri commenti, passiamo forse all'ultima domanda, non vorrei essermi perso il conto. Ecco, sì, è l'ultima domanda. Ecco, oltre il bando di cui abbiamo parlato, e oltre, insomma, diciamo, quali altre misure o interventi a un livello più alto, quindi a un livello più istituzionale, potrebbero essere utili per la vostra organizzazione, per portare avanti la transizione digitale? Quindi, finanziamenti, sto iniziando a mettere delle cose sul fuoco, comunità di pratica, formazione. Un impianto strategico condiviso? Prima si parlava forse della, non dico cecità, però insomma, di alcuni referenti apicali, dal punto di vista della strategia, c'è qualcosa che, magari anche a un livello superiore rispetto al vostro museo, c'è qualcosa che vorreste vedere accadere per facilitare questo tipo di processo? Sulla formazione, bene, sulla formazione direi che arriverà. Grazie. 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 Ecco qua, una risposta porta il tema degli interventi, finanziamenti occasionali versus strutturali, quindi, non so se chi ha lasciato questa risposta vuole commentare. ci in fondo. Nel senso che questo è il problema degli istituti di cultura in generale, pubblici e privati, sempre più i bandi servono a realizzare nuovo, a costruire nuove progettazioni, nuovi risultati, quando l'ordinario è sempre in affanno indietro. C'era un modo forse un po' provocatorio per ricordare che anche un piano di realizzazione così importante arriva dopo anni e anni in cui non è stato possibile curare l'ordinario nel patrimonio. e per noi, per esempio, un problema enorme è la catalogazione del patrimonio culturale, cioè là dove una biblioteca è obbligata a catalogare per poter rendere fruibile il suo patrimonio un archivio comunale magari è più in difficoltà sulla parte storica e sono diversi anni che non si lavora su piani regionali di catalogazione, non ci sono risorse per farlo ma mancano le risorse anche i termini di personale e in un momento come questo vedere arrivare una quantità così smisurata di denaro per la digitalizzazione quando le fondamenta traballano fa quasi rabbia in certi momenti cioè siamo contentissimi che ci siano meglio averli che non averli però con tutto il pregresso di danno che è stato fatto da anni di mancati finanziamenti anche a livello dello Stato è dura comunque e poi scusate se mi permetto anche la nota di pietismo ma venendo dalla Romagna noi ci siamo anche beccati un'alluvione dover gestire contemporaneamente gli edifici che sono allagati le montagne di libri da buttare i musei che vanno restaurati e allo stesso tempo dover gestire la digitalizzazione e siamo sempre noi quattro a gestircela non è proprio facilissimo poi si riesce a far tutto perché abbiamo voglia entusiasmo e tutto quanto e riusciamo a funzionare però un discorso serio non soltanto a livello di regione che fa quello che può ma proprio a livello anche europeo su questi finanziamenti che arrivano esclusivamente per il nuovo per la novità e non pensano a mantenere ciò che di buono esiste già negli istituti culturali è da rifletterci ecco no grazie posso fare io una domanda provocatoria quindi la digitalizzazione o quantomeno la trasformazione digitale non la vedi come un rafforzamento delle basi ok se siamo a livello per cui non si ha neanche conoscenza di tutto il patrimonio che c'è è difficile cioè io lavoro in una biblioteca che ha oltre 300.000 volumi e in cui il quasi 40% del patrimonio non è ancora catalogato non è semplicissimo quindi per me la digitalizzazione è un di più se io non so neanche quello che ho in biblioteca qualcuno che condivide o non condivide questa posizione magari e qua un'altra risposta riporta questo tema del ok concordiamo appieno con quello che ha detto la collega di Lugo perché noi a Cento non abbiamo ancora la biblioteca è ancora inagibile scusate dal sisma del 2012 di conseguenza la digitalizzazione ovviamente ci fa comodo però è la base che manca io volevo spezzare una lancia a favore della transizione digitale nel senso che per me ma forse sono anche un po' condizionata dal lavoro che faccio il digitale offre un'infinità di possibilità anche dal punto di vista della comunicazione e questo noi dobbiamo tenere presente che è un buon impatto sulla comunicazione se un istituto culturale riesce a farlo e quindi ci sono anche le professionalità che si occupano di comunicazione da tenere presente da una grande opportunità con le sponsorizzazioni perché questo è un tema che noi facciamo molta fatica a tenere presente anche quando andiamo a costruire un progetto e se stiamo parlando di cluster se stiamo parlando di mettersi insieme con diversi soggetti di origine diversa noi dobbiamo tenere presente che sempre di più dovremo abbracciare chi ci può sponsorizzare allora magari il digitale è un mezzo per arrivarci però poi uno sponsor forte ti paga anche i restauri ti paga anche la sede nuova ti paga cioè dobbiamo cominciare un po' secondo me a vedere tutte le opportunità e quelle della ricerca di sponsor e di finanziamenti è molto è molto forte è una possibilità forte che ti dà questo un'ultima nota su uno di questi commenti invece porta lo stesso tema quindi su finanziamenti diciamo occasionali o più strutturali lo porta anche sul tema della formazione e quindi formazione occasionale meno formazione occasionale più formazione costante visto che di formazione abbiamo parlato in vari modi qualcuno si sente insomma rappresentato da questa affermazione di formazione ce ne sarà molta nei prossimi anni questo possiamo dirlo soprattutto su questo tema ecco quindi di formazione ce ne sarà tanta ma non basta non è solo la quantità e questo forse si è detto anche prima deve far parte ovviamente di un progetto complessivo e deve dare le gambe a qualcosa che poi avviene concretamente negli istituti nei luoghi e nei centri insomma qui secondo me sono usciti fuori una serie di temi che appunto in cui questo tema della sostenibilità e della continuità è forse uno degli aspetti più importanti la sostenibilità riguarda comunque in assoluto anche il digitale di per sé e lo sappiamo bene qui si tratta diciamo rispetto anche a quello che è successo questa è l'ambizione ma sono io a doverne parlare c'è qualcun altro più titolato di me a farlo di come anche il piano nazionale di digitalizzazione e patrimonio culturale si pone proprio questo obiettivo e questa diciamo visione di superare quello che è stato negli anni passati perché insomma diciamo la digitalizzazione non ce la siamo inventata adesso chi è più vecchio e chi si ricorda insomma dai cantieri i giacimenti culturali le imprese e quant'altro cercare di superare esattamente quella logica e quindi andare in una logica di integrazione tra i vari aspetti i vari settori questo penso che sia un elemento fondamentale l'altro aspetto è appunto anche proprio quello di agire contemporaneamente e mi sembra che è venuto fuori anche nelle domande nelle notazioni precedenti sia sul singolo sul professionista e l'operativo ma soprattutto sull'organizzazione quando si faceva riferimento anche alla sensibilità dei dirigenti dei responsabili è l'organizzazione che deve crescere nel suo complesso questo vuol dire che la formazione anche non deve essere un portato del singolo ma qualcosa che si riflette poi nella vita dell'organizzazione dell'istituto e anche questo mi sembra una cosa che è estremamente importante noi abbiamo concluso io raccolgo che è un'organizzazione